Ciao, aspetta un attimo, aspetta, aspetta, non scrollare, ti ruolo solo pochi secondi Sono Matteo Keria e sono un coach di fitness Sei stanco di guardare quei video dove ci sono sempre questi fuffaguru del fitness che ti danno sempre i soliti esercizi? Sei stanco di guardare quei video dove parlano sempre i soliti nutrizionisti e danno sempre le solite diete e ti dicono che puoi mangiare quello che vuoi ma puoi dimagrire? Sei stanco di guardare quei video dove ti dicono sempre che basta allenarsi 10 minuti al giorno per avere un fisico d'atleta Insomma, sei stanco di guardare quei video che ti dicono che facendo poco terrai grandi risultati? Non guardarli più? Basta! Cioè, nel senso, se a me non piace una cosa non è che insisto, la guardo Cioè, cambia Cioè, alla fine, se continuo a guardare, comunque sono cose tutte Se continuo a guardare c'è anche una forma di masochismo Cioè, se non ti piace perché continui... Cioè, se sei stanco non guardarlo Cioè, a me non piace guardare, non è che la guardo Perché se la guardo, magari vuol dire che un po' mi piace Quindi, se sono stanco, sono stanco Poi, arrivo al video, cambio Cioè, non è che ci vada... Continuo a guardare Poi dico, ah, sono stanco Ma capito? Ma sei tu che... Oh, sono...